Ciao ragazzi e ragazzi sono giudice di questa visione, di questa visione e di questa visione di questo video, se non avete visto gli scorsi episodi, ce l'avevo lasciato con l'avere appena incominciato, il mondo 6, ossia l'ultimo mondo, dopo aver completato in una maniera quasi perfetto, quasi, il mondo 5 avevamo cominciato il mondo 6 facendole, vedete, le due vie del tesoro nascoste, tra l'altro ho fatto due conti in ogni mondo scoperte 10 vie del tesoro a testa ma vabbè, a parte questi dettagli tecnici l'ultima volta ieri, che ieri mi sono perso un attimo a fare un conteggio dei livelli, intanto vedete che sono con una velocità, ragazzi, incorporata perché ci sono due cose che devo dire, anzi la prima è che off camera mi sono direttato un attimo a completare alcuni obiettivi di alcune vie del tesoro che gli chiedessero di completare, appunto, la sfida in 30 secondi, perciò le ho registrate nella galleria e quindi le ho adesso ce la devo vedere velocemente la seconda cosa è che l'ultima volta mi sono dimenticata di andare all'armeria a potenziare l'abilità trivella sull'evoluzione finale che è trivella doppia quindi dopo devo vederla subito la terza e l'ultima cosa è che sicuro voglio mantenere il ritmo che abbiamo introdotto fino ad adesso con l'episodio ossia il ritmo che con cui all'incirca completo tutti i livelli al primo tentativo ricordandomi che la prima volta che ho fatto l'ultimo mondo ne ho viste parecchie con viste parecchie che ho completato i livelli tipo quattro volte ogni volta prima di riuscire a completare al 100 per cento sono andato sul primo file prima di iniziare a registrare ho fatto le foto di tutti di tutti i livelli completato al 100 per cento quindi fondamentalmente ora sul telefono c'è una foto tipo della schermata del livello con scritto solo complete livello sarò di nascosti eccetera eccetera e sottoscritti già anche tutti gli incarichi nascosti per ogni livello perché per l'appunto ho soltanto fare la foto sul primo file dove li ho già completati tutti quindi prima di proseguire la nostra avventura andando a vedere andando a vedere andando a vedere l'altrivello doppio dovete vedere le clip che ho registrato intanto vedete che qua si ragazzi sono riuscita dopo pochi tentativi credibilmente a completare questo fortuitissimo minigioco del rotto da Kirby in modalità difficile questo è tipo il tentativo numero ecco questo è stato tipo il tentativo numero 5 o numero 6 non ricordo una cosa che ricordo è sicuramente che mi hanno regalato 1099 1099 punti monete 1099 monete 1099 monete quando l'ho fatto e poi dopo aver completato tutto in modalità molto difficile il ludu teccario dice bravissimo ho superato tutta la modalità molto difficile io in realtà non mi dovrei sorprendere tutti i miei giochi ti sembrava delle bazzeccole rispetto alla grande avventura che affronta di solito ti meriti un altro ricompesso per aver superato la modalità molto difficile ecco delle piatterare perlomeno ti ho dato una ricompensa succulenta quando ho completato il gioco nel livello che io non voglio mai più rivedere con tutto il rispetto anche se è fatto bene poi dopo qua mi sono messa a completare come vedete il livello della granata del primo mondo l'obiettivo dei 30 secondi come al solito ecco penso che in tutte le clip ci si mancherà la prima parte perché la switch cioè qui l'obiettivo è 30 secondi la switch registra 30 secondi massimo quindi cioè io ho mantenuto la parte finale solo dopo l'animazione della film mi sono ricordata ah no aspetta questa esce nei 30 secondi e quindi niente però vedete che ho completato poi dopo che ho completato il tornado dopo un po' i tentativi non mi ricordo che livello del tornado è questo però sono tutti ragazzi livelli che richiedevo un obiettivo di 30 secondi quindi basta ripensare a questo e quant'altro questo è stato non mi ricordo quale tentativo stai facendo che ho capito che tagliando arrivavo più al traguardo dopo di che ho completato la prima scheda dello spinno che consiste a quella che consistiva nel gotolare parlando del gotolare l'ultimo poi ho completato off camera anche la sfida dello spinno cristallo realizzando che solo con la velocità incorporata si poteva completare quell'obiettivo del aggiungi il traguardo in 30 secondi perché altrimenti per la storia praticamente infattibile come cosa qui come vedete ho toccato al pelo il traguardo vabbè eccoci qua vedete per questo quindi vi sono stati spiegati perché ho la velocità incorporata in questo momento perché l'ultima cosa che ho fatto ora la penultima mi sembra di ricordare è stata questa vedete solo qua che l'abbia vista anche nello stesso episodio se non ricordo male ecco fate conto che per battere l'obiettivo bisogna arrivare prima che l'orologio tocchi il 15 di secondi perché è partita a 45 quindi 30 secondi quindi quando l'orologio arriva il 15 bene quindi mi sono andato a incorporare la velocità il potenziamento della velocità che a velocità aumenta tutti i movimenti pure quando tiri le mosse e così sono riuscita ad arrivare a quanto in tempo mi sa che la utilizzerò anche per i prossimi completamenti degli altri obiettivi si ragazzi mi sono avete capito bene ho intenzione di completare tutti gli obiettivi delle 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 vite del tesoro per gli extra con la modalità con la velocità incorporata però così saremo sicuri di riuscire a entrare ai tempi vabbè panto le cianze sono annullate mi sono dimenticata di andare scusate mi sono mi sono dimenticata mi sono completamente dimenticata di andare dall'armaiolo cioè una cosa mi avevo proposta di fare prima di una cosa mi avevo proposta di fare prima di riprendere a fare livello e cominciare a completare l'ultimo mondo perché entro questi quattro episodi ti do vedere la fine del gioco entro l'episodio quattro che registro oggi che per voi è il secondo episodio di domani intendo vedere i titoli di coda perciò così per domani comincio con calma intanto qui trivello doppia che l'ultima evoluzione potenzia un po' tutto ah non so se avete visto un po' di monete in più rispetto a l'ultima volta perché ho fatto un paio di volte l'arena anche un po' di pietre tesoro ho vinto vale l'abilità trivello è voluta in trivella doppia vediamo un po' subito la potenza ecco la cosa in più che c'ha questa abilità è che a parte fatto io che faccio i terremoti senza accogermene vediamo faccio collare il terreno sono talmente veloce che ne faccio di più di crepe guardate che aspetta la dimensione del terremoto è fantastica del crollo del terreno è stupendo oh mamma mia signore credo ok abbiamo visto una figata della trivella dire che con certi così possiamo andare appena potuto ricominciare il mondo sei che è l'ultimo mondo ripeto per niente una volta ed è l'unico mondo con cinque livelli prima del boss anziché quattro quindi piegheremo un po' di più contando che faremo anche le varie vedette so quindi accesso all'ardente dominio proibito è anche per questo che mi sono fatta la foto degli incarichi di questi livelli così da poterli completare sicuramente al più obiettivo e perché magari rischio di dimenticarmi mamma mia ragazzi che è presa male però una città ingovina questa sembrava essere l'antica questa sembrava giudicare dei palazzi sembrava essere l'antica capitale della popolazione che viveva qui un tempo un tempo però bello poi le meteore che mi piove in testa simpatiche avrei voluto farli esplodere tutti con il tag moto ma non ce l'ho fatta allora l'obiettivo è sconfiggere questo aufi raggiungendolo però dobbiamo sconfiggere due spostati su queste postazioni eccolo qua sconfiggi due aufi di guardia questi sono aufi che pensavo che fossero degli alurbi lavatotte da merda lo so però lo pensavo la prima volta che l'ho visto ma invece quando penso solamente degli aufi col pelo più lungo il tratto qui da rotta è che fa grandioso arriva l'ansia del terreno che ti casca sotto i piedi grazie gentilissimi portachiavi ah ho dimenticato idea che ho completato la collezione off camera del secondo volume di figurine ma stati conigli come al solito ragazzi la collezione di figurine la vedrete alla fine del gioco quando farò video dedicati dove io non parlo sapete quindi vi faccio vedere le cose come te presenti tipo i video sui bestiali di fare infatti sì ecco una roba simile faccio morto gli aufi li abbiamo sconfitti oh oddio 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 è un momento dell'accogliere cristalli prima che ecco fatto due tre ahia bastardi quattro c'ho ancora vita doppia tra l'altro questo dovrebbe essere il primo sì uno solo quattro i world del D beh se non posso permettere solo quattro i world del D perché ci sono cinque livelli il rigolo dito te sono 61 ma vaga la velocità è bella ma non so controllarla allora tra l'altro devo tenere che parte per i progetti i progetti che ci rimangono io ti i progetti che ci rimangono per evo per l'abilità ce ne restano ancora alcuni già qui quella del tornado quella del sonno se non ricordo mai sì basta guarda se non mi servisse già ho dimenticato di ordinare d'asporto qualcosa al bug qui ci è qualcosa tipo il secondo world di quindi vai grazie per avermi ridata la trivella proprio non l'avevo ancora grazie per avermi ridata ok mi è finita la velocità meno male perché veramente sono proprio un incapace nell'utilizzare la figa ma io proprio non sono portata solo quando faremo le vere tesoro cioè per completare gli obiettivi delle vere tesoro userò di nuovo basta ho capito che io non so prendete portate per la vita doppia sì invece ce l'ho ancora un attimo che uh ecco visto visto che conta girare oppa eccolo qua torno il passaggio segreto secondo obiettivo completato all'ultimo me lo ricordavo io ho dato una riletta ma me lo ricordavo lo stesso uh postina rossa e questo è del volume 3 e il volume 3 è l'altro per ottenere uno ogni volta al al villaggio con le figurine tipo cioè con avete presente il nome cazzo il distributore di figurine ecco costa 50 monete da quel distributore di figurine per prendere una figurina cioè le figurine del volume 3 sono 56 mi pare di ricordare e vai a ricordare di aver letto e per prenderne una distributore costa 50 monete costa tantissimo cioè quelle del secondo costavano 20 da quelle del 3 costano costano ok non c'è niente quelle del quelle del il volume 3 costano 50 cioè tipo neanche più del doppio allora ah fantastico grazie per l'ansia vai te meteora e meteora sono proprio delle buone amiche in questo in questo livello nel senso negativo veloce ecco mamma mia per poco il trucco dei gradini che naturalmente per prenderli tutti devi partire da quelli più in basso ora qui c'è il serbatorio dell'acqua che sgorga cioè dell'acqua allora fa un po' strano ok figurina vabbè fa un po' strano che ci sono un serbatorio d'acqua in mezzo a una terra fatta solo di lava praticamente queste sono le terre bruciate allora è vero ora che sono un palloncino posso spegnere la qui fuoco è vero ecco fatto questo è l'ultimo obiettivo fare sfaltare in aghi a 7 meteore ancora ecco ecco devo sbrigarmi fatemi veloce si ditemi che l'ho fatto ce l'ho fatta dovrei averce l'ho fatta ragazzi ecco perché ecco si ce l'ho fatta vai così anche perché se non ce l'avessi fatta sarebbe non sarei potuta andare a salvare l'ultimo World of Duty e signori completiamo in bellezza il primo livello ah sono fiera di me ah non l'ho detto in questo episodio intendo fare che potrebbero sopportare le coronabie ma sono troppo tristi per agire tutto ciò che riescono a fare e chiede aiuto un lano wow 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 qualcuno li salvi vabbè qualcuno li salvi anzi scusatemi non l'ho detto in questo episodio intendo sicuramente questa è nuova ecco infatti chiede a morfo scala chiede a misteriosa bocca morfo ora puoi filarsi in bocca una scala intera sposta le schede per raggiungere posti di difficile accesso puoi anche farle cadere addosso dei mici con un bel toffo sbam questa è nuova per voi gabi lù e ora il bu ora bilu il piccolo è gabi lù e l'altro è ora bilu la osta però che grande è saltato molto in alto ma non fate trovare sotto le loro zampe quanto a taglia le altre bestie adorare la cazza e lo morbido pelo ma magari non toccarei la coda è una cosa che odia che potrebbero saltate addosso i pugliati abbiamo balsi in questo episodio devo fare i livelli 1 e 2 non l'ho detta assieme alle vie del tesoro quindi la bella del tesoro forse a questo mondo ci sono 12 del tesoro invece che 10 tesoro garata ricerca ha interruttore ha interruttore la garata ricerca entro un minuto ottengo il bonus ce la possiamo fare si ecco perché perché io posso solamente posso io posso solamente lanciare le granate ecco andando verso il nemico inevitabilmente colpiscono anche le inevitabilmente colpiscono anche l'interruttore perché vanno verso i biontotteri i biontotteri ma dai ho sbagliato la mia come ma dai ma dai granata dai comunque il tempismo è andato a farsi forte che sarà un casino ragazzi completare tutti questi obiettivi al cioè sarà un casino secondo me completare tutti questi obiettivi delle vie del tesoro vada per due secondi del cavolo beh non sto qua di farlo non mi ricordo beh forse mi pare di ricordare che ci siano dieci piedi tesori anche qua comunque tesoro mandalo per storico un po' solo domanda questa è una prova ok no l'altro obiettivo mi paghi 1.20 ecco qui servirebbe tantissimo il busto della velocità perché minchia certo che però è potente il martello per storico facciamo fare di tutti un colpo solo ecco ecco forse a questo necessitano ecco più colpi uh per poco ho toccato il veneno che però che sono basta vai così posso adesso arriva bonkers lo spero penso di sì sì doppio bonkers vero uno e due mamma mia ragazzi ma che intuito che era siamo nella parola del martello vuoi che non avessi previsto mamma mia senti che con due colpi modo perché pure le fiamme fanno male finché bruciano e mi sa che a 1 e 20 ho detto giusto io ho appena peccato ancora una volta di due secondi qualche centesimo no attenzione è a 30 avevo letto male signori ottengo i bonus non avrete già il modo da rifare per durante gli extra allora abbiamo da fare adesso la strada infernale dove è bellissimo 5 quello del lì tra i cari sono al solito ok cambia verità super dalla lama ecco perché questa è da utilizzare se devo fare qualche cosa a tempo allora ricarica questo ruba porzioni di cane e bestie due volte ma comunque ragazzi la musica dell'ultimo mondo è fantastica non so se ho fermato prima però è stupenda chiunque sia stato scritturato per la colonna sonora in tutto il gioco è stato fantastico ho fatto un lavoro grandioso e di qua i signorini i poveri waldeldee però non possiamo andare qui adesso ci devo fare il giro è qui waldeldee però devo fare il giro 1 su 5 si vede il sotto si stato di un bobby bros io odio i bobby bros io odio e anche i cannoni io odio oh raga oh oddio ho preso ho preso mi serve per per una sfida che avviene adesso come al solito ragazzi se c'è una bomba vuol dire che ti serva qualcosa vuol dire che se vuol dire che devi farci qualcosa con l'abilità bomba ecco fatto intanto per comprenderli più l'obiettivo vai 1 2 sconfiggere dopo pagossi usando la vita bomba eccola qua tratea intuibile questa io non so perché la prima volta non l'avevo ricapito beh adesso il ghiaccio grazie ecco fatto dovrei aver preso tutto si è piaciuto passato a destra ok beh ho fatto un due ricchi che le abbiamo già fatti ok mi serviva obbligatoriamente il ghiaccio per fare certe cose vedo tipo passare sulla lava presuppongo che se smetto di muovermi comunque mi faccia male perciò scongelare i mattoni mi mancava mi stava gelato grazie due se ho già 25 minuti ma come adesso devo ritornare su bravo che oh comunque ragazzi vi ripeto questi livelli prima di completare prima li ho ripetuti più volte perché comunque non sono semplici ahia visto tanto lo sapevo che se mi fermavo mi sarei spustionata allora adesso qui devo evitare di ahia di distruggere questi blocchi devo solo scongelare ecco fatto perché ora passo ecco con colo grazie è simpatico ecco quello che non dovevo fare grazie meteora simpatica perché qui c'è una terzo guadaldeen arrivo ok lì ah ho capito è vero se io mi ricordo adesso apriti oh adesso devo far venire tipo il carghello eh si 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 ci sono i binari e vabbè che casino e vabbè una catena sì anche o per che diventa c'è ragione ci sarà così dal suo ruolo del dì su cinque bene posso scendere no sì questa ruga è proprio l'area tutta l'area di essere proprio una la capitale in bovina questa 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 zona questo posto guardate i gattacieli cioè i gattacieli cioè poi almeno questa è una delle più grandi città del della terra perduta grazie per il gelato grazie per il colostropoli a o quattro del dì ne manca uno ok si però ci hanno i blocchi di sabbia apposta erano di sabbia ma ce l'hanno per un motivo per evitare che tu dovessi cadere il vuoto ah mirino mirino sì c'è l'esploratore me lo ricordo bene perché allora ci mancano da trovare il progetto delle evoluzioni dell'esploratore del sonno del tornado e poi non ricordo gli altri tre forse questi tre basta in effetti una mi pare di ricordare che sei nell'ultimo livello una nel penultimo e adesso qui l'ultimo obiettivo accendere tutti i mulini direte siamo una cagata sì sì che è un po' una cavolata non so alcuni che li dimentichi lungo la strada ciò si deve fare proprio una cosa stupenda giù ok nella lava come fare una barchetta così a non bruciare sulla lava di che di che legno hai fatto legno da davanti non lo sapremo mai una cosa che so è che qui c'è un ventilatore un mulino nascosto eccolo lì rosso altro rosso sicuramente sarà nuovo fantastico ho dimenticato un mulino qua dietro no no ho proprio dimenticato ah già già ho dimenticato un mulino sopra ho dimenticato un mulino sopra perché se ne attivavo tutti sarebbe perso il posto dove stava l'ultimo Waddle D un bersaglietto intanto esploratore spaziale vabbè ragazzi facciamo velocemente il livello ok dai ragazzi ho mancato un ho mancato un Waddle D quindi di conseguenza non ne trovo due perché uno diceva di far girare ecco tutti i mulini avessi un'odificente però ha detto ragazzi è difficile se ti dimentico un mulino e io cosa faccio mi dimentico un mulino kibi vabbè morfocono bomber fai vedere quello rosso io arco ok allora ci sono altri due minuti l'episodio però non si ferma lo fermiamo quando è ben completato questo livello dunque adesso vado a dire ritornare velocemente qua allora sì 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 mamma mia che schivata recupero un po' di vita che mi dispiace ragazzi non c'è la seconda barra vita cioè facevo prima finire di bella e rifarlo quello che sto facendo adesso aia barca stavo scrivando tutti con grande destrezza ok abbiamo qui bomba così finiamo i tre secondi di combattimento posto innoriamo quelle che per adesso sono diventate cose secondarie la cosa bella dei giochi platform è che una volta che tu hai completato un livello poi dopo gli impieghi impieghi dieci secondi a rifarlo perché se lo stai rifacendo perché hai dimenticato una cosa e lo vuoi e lo vuoi rifare perché appunto riprende quella cosa che ti sei lasciato indietro impieghi dieci con uno schicco di dita a ritornare sul posto perché ignora tutte le altre cose che hai fatto prima perché in realtà non c'è bisogno che le ripeti perché appunto tu hai fatto tutte quelle altre cose per prendere completare il livello 100% però per arrivare alla fine non ti sarebbe cioè poteva anche potevi anche non farle quindi allora stavo attaccato vediamo dovevo fare figure bambini e vediamo di attivare tutti i ventilatori qui i mulini sì va bene parlo di venti con ventilatori perché ho acceso tre ventilatori in casa per compensare il fatto che ho chiuso tutte le finestre eh guarda scommettiamo che era la sua sinistra infatti c'è qualcosa che non stava quadrando allora adesso andiamo qui a sinistra e hanno quattro quindi totale i mulini perché se c'è ancora il vetro sì erano erano quattro no ma come faccio come faccio io a cadere così le posto ecco poi per far girare tutti i mulini al vento devo andare ad accendere il quarto che sta da là dietro come dove abbiamo visto che c'è anche la figurina rossa invece per dire portacchiavi scusate ragazzi qui però dog nel baguette il carico di murino è ancora finito intanto però troviamo l'ultimo water di qui piccolino piccolino posso altro figurino del volume del volume ho visto quanto c'è voluto 5 minuti ok che b boff montacarichi ora profilarsi in bocca di teo montacarichi stediti ori tirati per aggiungere oggetto per schivare attacchi poi sputtare montacarichi mentre steso e aggiungere piattaforme alte ok ragazzi possiamo fermare l'episodio qui nel prossimo episodio andiamo a vedere l'ultima evoluzione dell'abilità esploratore e poi provvediamo a fare le due vedete solo che dovrebbero apparire adesso sì c'è una passa prima l'altra appare quando coperti livello 100 per 100 si facciamo quindi il passo di piaccio di potenzione abilità esplorata un'ultima volta facciamo due video tesoro facciamo il terzo livello e poi preferibilmente anche livello 4 a più tardi